Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Analizziamo anche i temi che sono stati trattati il 23 e il 24 marzo 2021. Ecco i titoli. Parleremo di un impegno per tutelare la sicurezza dei lavoratori Amazon con una mozione unanime e poi azioni urgenti e risorse a sostegno delle zone disagiate, anche in questo caso risoluzione unanime per quanto riguarda le aree interne e poi la presentazione del calendario di Cure the Children e soprattutto quelli che sono appunto i loro aiuti che stanno dando a molti bambini. Andiamo quindi per ordine. La giunta regionale deve sollecitare il governo a favorire l'apertura di un tavolo nazionale tra i rappresentanti dei lavoratori e l'azienda Amazon per affrontare il nodo delle condizioni di lavoro e superare le difficoltà evidenziate nel sistema della logistica e delle consegne. Inoltre la regione deve impegnarsi anche a elaborare quello che è uno specifico provvedimento che nel rispetto alla competenza regionale in materia abbia l'obiettivo di introdurre delle disposizioni normative per accrescere la tutela e la sicurezza dei lavoratori. Lo chiede una mozione che è stata presentata dal gruppo del PD, il primo firmatario del capogruppo Vincenzo Ceccarelli, che è stata condivisa da tutti i gruppi e votata all'unanimità il Consiglio regionale all'indomani dello sciopero di Amazon nella seduta del 24 di marzo. Sono davvero contento che il Consiglio regionale abbia votato all'unanimità una mozione che chieda di redarre una legge a favore della tutela e della salute dei lavoratori delle piattaforme digitali. Da quando sono stato eletto Presidente del Consiglio regionale ho sempre detto di voler dar voce a chi ha meno voce. Essere al fianco di tanti lavoratori che oggi hanno meno diritti è qualcosa di importante e sono contento che questo lavoro sia stato apprezzato da tutte le forze politiche del Consiglio regionale. Ci sono temi su cui non ci deve essere differenza di posizioni partitiche, ma ci deve essere un solo obiettivo, dare risposte a quei lavoratori che oggi hanno meno diritti. Questa multinazionale ha 175 centri di distribuzione nel mondo, 40 in Europa, alcuni anche in Italia, fra l'altro due qui in Toscana, a Pisa e qui nella Piana Fiorentina. C'è stato un forte aumento tra l'altro dei volumi di affari di queste aziende che sono legate all'e-commerce, causa anche il Covid che ha costretto le persone a stare in casa. C'è stato un aumento di oltre il 50% dei volumi di affari. Rispetto a questo aumento di volumi che presuppone anche un aumento dei guadagni, c'è invece una situazione che viene denunciata dai sindacati e dai lavoratori di compressione di quelli che sono i diritti, la qualità del lavoro che sono costretti invece a subire. In termini di turni stressanti, di necessità di consegne alle ore più disparate, assenza di clausole sociali nei loro contratti. Molti di questi contratti sono precari e quindi c'è stata un'altissima adesione al primo sciopero che è stato indetto dai lavoratori di questa grande azienda, perché ha partecipato oltre il 70%. Intanto la solidarietà e la vicinanza è giusto che il Consiglio regionale la esprima sempre. Noi non siamo soliti portare in aula mozioni sulle tematiche del lavoro e condividerle indipendentemente da chi le presenta. Noi ci aspettiamo che anche qui la Regione si attivi il prima possibile per dare risposte a tutti quei lavoratori che lavorano anche in tempo di pandemia, che subiscono turni che sono pesantissimi e che hanno giustamente delle richieste da fare alla politica, che non può tacere la risposta ma che si deve impegnare per portare le loro soluzioni. Ma è un'attenzione che vuole dare il Consiglio regionale, indipendentemente dalla ripartizione di carattere politico, per dimostrare che c'è un'attenzione forte al mondo del lavoro, a un lavoro che in questo momento sta affaticando rispetto alle tutele di un settore che comunque sta producendo grandi utili, grandi redditività e che sta, tra virgolette, guadagnando dalla crisi degli altri. E quindi come è tale questa redditività deve essere condivisa e ripartita fra chi quel lavoro produce, mediante il proprio lavoro produce quel reddito. Intanto mi fa piacere e voglio fare veramente complimenti ai lavoratori di Amazon perché prendere un'iniziativa sindacale come quella che hanno preso contro forse il più grande colosso mondiale non credo sia facile, serviva perché bisognava portare l'attenzione sulle condizioni di lavoro di queste persone. Io mi auguro che il Consiglio regionale abbia fatto, non so se riusciremo a fare qualcosa di concreto per loro, me lo auguro ma sarà difficile visto le dimensioni della controparte. Però mi auguro che il Consiglio regionale della Toscana sia l'apripista per avere il coraggio di far luce su una situazione di lavoro che non è possibile accettare nel 2021. Una specifica commissione, la Commissione Aree Interne e parleremo anche di questo, conosceremo anche il Presidente e il Vice Presidente di questa commissione perché sapete che superare il nodo della manutenzione delle reti stradali, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale e rurale, adeguare ad esempio l'offerta di destagionalizzazione turistica, dare sostegno all'imprenditoria locale, mettere in campo delle misure per assicurare una dotazione minima di servizi sono priorità. Priorità verso le quali la Regione dovrà indirizzare i propri interventi a sostegno delle aree interne contenute proprio in una proposta di risoluzione sulle misure di sostegno, provocate anche come problemi che hanno riguardato la crisi della pandemia del Covid-19. Sono state illustrate in aula dal Presidente della Commissione Aree Interne, Marco Nicolai. L'atto o indirizzo è stato approvato dal Consiglio regionale con voto unanime. Sono invece stati dichiarati inammissibili alcuni emendamenti che erano stati presentati da Fratelli d'Italia. La Commissione Aree Interne è stata una scommessa che abbiamo fatto all'inizio di questa legislatura e io come Presidente ho voluto subito sottoporre alla valutazione della Commissione alcuni indirizzi che oggi abbiamo approvato unanimemente. Indirizzi che sono concreti perché poi alla fine noi dobbiamo misurarci su questioni che riguardano questi territori a come dare ad essi che sono così importanti nella regione toscana una mano che sia concreta e reale. Alcuni punti che abbiamo posto all'attenzione. Innanzitutto noi nel 2020 abbiamo erogato come regione 2 milioni e mezzo circa di fondi ai comuni montani, all'Unione dei Comuni per alcuni progetti. 15 progetti che sono venuti dai territori erano meritevoli di finanziamento ma non c'erano risorse sufficienti. Noi chiediamo alla Giunta che nei prossimi atti di bilancio siano coperte o il finanziamento di questi 15 progetti. Così come rispetto al bando del sistema neve per gli ammodernamenti delle loro infrastrutture ci sono ancora 300.000 euro di richieste da finanziare. Potrei continuare con la questione del piano di sviluppo rurale. I territori montani hanno il problema dell'abbandono. L'agricoltura è l'antidoto ai fenomeni di abbandono non solo in montagna. Noi quindi abbiamo chiesto alla Giunta un'attenzione particolare visto che si sta trattando con l'Europa il prossimo piano di sviluppo rurale sul ricambio generazionale perché se ci sono giovani che vogliono fare dell'agricoltura il loro futuro e la loro professione devono essere in condizione di farlo. Sul tema della forestazione perché la superficie boschiva non è solo un problema è anche una grande risorsa che deve essere mantenuta e ovviamente anche la questione dell'indennità per le aziende agricole nelle aree montane. Questa commissione è nata proprio con l'intento di aiutare le aree interne e stiamo lavorando con le audizioni proprio perché ascoltando la voce dei diretti interessati a breve nella prossima commissione avremo i sindaci proprio delle zone della neve. Ascoltando le loro problematiche possiamo in qualche modo poi trovare delle soluzioni adeguate. Sappiamo tutti che le aree interne soffrono da tanto tempo per tante motivazioni. Noi dovremo tener conto dei problemi legati anche all'agricoltura nelle zone montane che è molto più difficoltosa rispetto a quella delle zone pianeggianti e però è un presidio importante per tutto il territorio. Io in particolare cerco di prestare l'attenzione anche alla scuola in quelle zone e anche ai servizi sanitari territoriali perché senza queste due importanti istituzioni la gente se ne va e la montagna si spopola e invece bisogna che la gente rimanga in montagna perché solo vivendola la montagna può servire anche alla città. Perché io dico che se le zone montane sono popolate da persone che vivono il bosco e vivono tutta la zona ai benefici arrivano fino alle città. Nel nostro piccolo, grazie a me, abbiamo dato una misura simbolica ai maestri di sci, ma quello era simbolico. Ora servono risorse vere per tutti quei ristoranti, per quegli alberghi, per quelle imprese, per quei comuni che vivono la realtà centrale della Toscana ancora più complessa rispetto ad alcune dinamiche fuori da alcune direttrici e alcune linee di ristoro nazionale. Quindi la Toscana può fare qualcosa, lo deve fare il Governo, lo può fare la Regione. Insieme dobbiamo tempestivamente dare una misura importante di ristoro a queste realtà. La montagna ha partorito un topolino, in questo caso la montagna è la Commissione Aeree Interne che aveva l'opportunità di intervenire a favore delle aree interne in maniera importante, invece si limita a fare un appello al Governo. Quando c'è da mettersi le mani in tasca, quando ci sarebbe invece da prendere degli impegni diretti da parte della Regione Toscana, si vede che ci si lava le mani in maniera disarmante. La Regione Toscana ad oggi non ha messo un solo euro a disposizione della montagna, la montagna sta vivendo una crisi drammatica, potrebbe fare degli interventi come sospendere i canoni per le piste da sci quando insistono sul demanio regionale, sarebbe una misura che si potrebbe fare qui in Consiglio regionale con un voto, ci è stato detto che non era opportuno, non era questo il momento, ci sarà un momento più là in cui sarà più opportuno. Ecco, si continuano a fare soltanto chiacchiere, la Regione Toscana ad oggi non ha stanziato alcun denaro a favore della montagna toscana che sta vivendo una situazione assolutamente drammatica. Io ho fatto parte della Commissione Costiera per i cinque anni precedenti e la mia esperienza non è positiva. Quella che è stata la Commissione Costa è stato semplicemente un gruppo di consiglieri che girava per la costa per evidenziare delle criticità che in Regione Toscana tutti dovevamo conoscere a mena dito. Io spero che la Commissione Aree Interne non sia una cosa analoga, ma al momento non sembra essere cambiata molto. In questo momento, banalmente, per il fatto che siamo in emergenza Covid, sta recependo quelli che sono i problemi delle aree interne, ma la Regione dovrebbe farsene carico anche senza bisogno di questa Commissione. Ci dovremmo forse chiedere come mai abbiamo bisogno di commissioni specifiche per queste aree, perché allora ci riempiamo la bocca di Toscana diffusa, quando poi non è così e addirittura abbiamo bisogno di una Commissione per scoprirlo. I calendari di solito si presentano a inizio anno, ma questo è un calendario speciale. Anche il 31 dicembre sarebbe davvero da acquistare per fare del bene. È il calendario di Q2 Children, della fondazione Q2 Shield, che è stato presentato qualche settimana fa in Consiglio regionale nella sala Gonfallone di Palazzo del Pegaso. Il Presidente dell'Assemblea Legislativa, Antonio Mazzeo, ha illustrato quelle che sono davvero le finalità benefiche dell'iniziativa, che ha come testimoni a tre personaggi di eccezione, Giorgio Panariello, Leonardo Piraccioni e Carlo Conti, che ha sempre a fianco dei più piccoli impegnati a sostenere l'acquisto dei primi farmaci salvavita necessari a sconfiggere il neuroblastoma. Ogni qualvolta le iniziative di solidarietà bussano alla porta del Consiglio regionale, noi diciamo presente. Io sono stato subito colpito dall'impegno, dal lavoro che viene messo in campo dall'associazione Q2 Children, che ho subito aderito all'iniziativa e l'ho fatto in maniera così convinta che oggi vedere il video che è appena passato mi dà l'idea di quella che deve essere la strada da perseguire. Ogni qualvolta che sento insieme la parola cancro e la parola bambino si accaponisce la pelle, sono parole che non dovrebbero mai stare insieme, invece purtroppo ci stanno e ogni qualvolta c'è qualcuno che investe, investe il proprio tempo, investe in iniziativa di solidarietà, investe in raccolta di finanziamenti per sostenere la ricerca, per aiutare a fare in modo che non accada più, non accada ad un bambino, poi a due, poi a te, poi a diecimila. Ecco, io penso che questa sia la strada da seguire. Grazie all'iniziativa, portiamo in Consiglio regionale i calendari che sono stati anche quest'anno realizzati. Con il sostegno all'acquisto di questi calendari si potrà sostenere l'acquisto dei farmaci salvavita necessari a sconfiggere una malattia terribile come il neuroblastoma. Ecco, io penso che iniziative come queste richiedano tutta la vicinanza e tutto il nostro sostegno e chiedo anche a voi di farvi da cassa di risonanza. Più crescono, più arrivano a più persone, più è possibile che il lavoro di queste iniziative come queste vada avanti e produca risultati. 13 anni fa nasceva Cure to Children, la cura al bambino. Sembrava un progetto impossibile da realizzarsi, soprattutto anche quando poi scoprimmo che eravamo soltanto noi ad aver avuto quest'idea di andare a curare bambini con gravi malattie del sangue o malatti di cancro in paesi poveri o in via di sviluppo. Abbiamo scoperto che a questi bambini non veniva riservata nessun tipo di terapia. A volte non veniva neanche garantita una corretta diagnosi. Vi posso assicurare che a 40 minuti di volo noi abbiamo trovato queste situazioni. Ci siamo armati di tanta buona volontà, tutta una serie di coincidenze fortunate, tra cui anche la passione e l'amore che ha voluto dedicare a questa organizzazione Leonardo Pieraccioni, che come sapete conosceva uno dei nostri bambini, che era un suo fan e che purtroppo morì. Pieraccioni fu molto scosso da questo accadimento e fin da subito accettò di dare vita a questa missione, a questo progetto. E come ho detto prima, dovevamo salvare un bambino. In questi giorni, come ho detto prima, abbiamo preso in carico Maria e Cristin, una bambina del Camerun, e ha fatto scattare nel nostro database il numero 10.000. Cristin è ammalata di anemia falciforme, è una patologia terribile, perché ha il triste primato di essere la malattia che procura più sofferenze. Oggi voi scoprite questo dato. È la leucemia che fa soffrire di più un bambino? No. È il neuroblastoma? No. È l'anemia falciforme. E dovete sapere che questa patologia, con dei farmaci, tra l'altro che hanno un costo molto modesto, si riesce a gestirla bene fin dall'inizio. Vi dico questo perché ora Maria e Cristin sta già molto meglio, soltanto con una consulenza online e con l'indicazione di alcuni farmaci mirati. Maria e Cristin però per guarire avrà bisogno del trapianto di midollo osseo, che abbiamo già individuato compatibile il suo fratellino e pertanto all'inizio dell'estate probabilmente accederà anche a questa terapia che gli salverà la vita. Con un messaggio di solidarietà e appunto un calendario con finalità altissime. Si conclude il nostro appuntamento con Dentro il Consiglio. Vi ricordo per tutti gli aggiornamenti www.consiglio.regione.toscana.it. Vi aspetto come sempre qua, tra sette giorni, Dentro il Consiglio. www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.